Questo ragazzi dovrebbe essere un video sfogo, però in realtà non lo è, o almeno non totalmente. Stiamo parlando di Lazio-Lecce 4-2. Sconfitta comunque che ci sta, non era facile andare a giocare a Roma contro la Lazio, che dopo la sconfitta contro il Celtic aveva comunque il sangue agli occhi, si è visto soprattutto nei primi minuti di partita. Però il Lecce ha giocato bene, si è fatto vedere, però quando il Lecce gioca all'attacco gioca molto bene. Quando il Lecce tende a chiudersi in difesa, quindi con tutti i giocatori dietro la linea della palla, subisce tantissime occasioni e prima o poi il gol te lo prende sempre. E questo è il grande problema della squadra di Liberani. Ma parliamo adesso della partita, il Lecce resiste per i primi 30 minuti e la Lazio però segna con un bel gol di Correa alla sua terra che batte Gabriel. Il pareggio arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battuta in mezzo all'aria, Rossiettini sponda di destra e la padula di Mancino batte Stracoscia, uno pari. E si conclude così il primo tempo. Il secondo tempo il Lecce gestisce la palla, la Lazio e le sue occasioni e raddoppia con Milinkovic-Savic che non segnava forse da settembre, quindi come sempre il Lecce fa segnare ai giocatori che non segnano da una vita. Però 2-1, bel gol di Milinkovic al volo, mette il piedino e batte Gabriel. Poi arriva praticamente al 66esimo, l'episodio chiave della partita. Calcio di rigore per il Lecce, tira Babacar, che poi io non ho capito perché fanno tirare Babacar con Mancoso che ha segnato 4 rigori su 4 questa stagione. Fa tirare Babacar, va bene, va bene, va bene. Tira Babacar, sbaglia. Sbaglia. La padula segna. Però il gol viene annullato. Perché viene annullato? Perché evidentemente c'era una posizione irregolare di la padula che entra in aria prima che il rigore venisse battuto da Babacar. E fin qui ci siamo. Poi, non so se effettivamente il rigore c'era. Di certo c'è il contatto, ma Mancoso ha cento a tanto la caduta. Però secondo me il rigore poteva anche essere annullato, magari poteva essere ripetuto. Perché? Perché ci sono anche dei giocatori della Lazio in aria. Però comunque è anche vero che se un giocatore della Lazio avesse preso la palla prima di la padula, molto probabilmente il rigore poteva essere ripetuto. Però secondo me poteva essere ripetuto. Comunque, 2-1, niente gol di la padula. Mannaggia Babacar. Comunque, Lecce si spegne. 3-1-4-1 nel giro dei 5 minuti. Anzi, meno 3 minuti. Con Correa e Immobile. Immobile sul calcio di rigore. Ci sta per rigore. Fala di Maranetto di Calderoni. E poi con Correa. Con un bella rasoiata di sinistro all'incrocio. Il Lecce poi segna con la Mantia appena entrato su un cross dalla destra di Pietri Uccione. Corpo di testa di la Mantia. La sua specialità. 4-2. Lecce va a fare occasioni per segnare il 4-3 che non arriva e la partita si conclude. Sul punteggio di 4-2. Quindi, nonostante la sconfitta, ho buone sensazioni per le prossime gare. Sono convinto che Lecce, nelle prossime gare, può dare il meglio di sé. Si è visto comunque in queste ultime uscite che il livello di gioco è aumentato. Però bisogna andare all'attacco, ragazzi. Non si può stare sempre solo in difesa perché il problema del Lecce è la difesa. E la difesa, quando il Lecce, ho già detto prima, quando il Lecce gioca solo in difesa, sono cavoli amari. Veramente, perché subisce troppo e alla fine il gol lo prende. Poi ne prende uno, poi ne prende l'altro. Quindi, ragazzi, la prossima sarà Lecce-Cagliari. Dopo la sosta per le nazionali sarà una sfida tostissima perché il Cagliari, terzo, a pari punti con la Lazio, è un avversario molto tossico. Oggi ha portato 5 a 2 la Fiorentina che ne sarà veramente tosse. Deve stare molto, molto attenti. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona fine settimana a tutti, una buona fine di domenica e un buon inizio settimana se vi doveste vedere il video domani. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!